Il Natale non è una festa del consumismo commerciale, dell'apparenza o dei regali inutili. Con queste parole Papa Francesco ha accolto in Aula Paolo VI i dipendenti vaticani, esortandoli a coltivare, soprattutto in questo tempo di festa, il proprio rapporto con Dio. Questo particolare periodo liturgico, infatti, è l'occasione più propizia per curare ogni ferita e per curarsi da ogni mancanza. Di qui l'invito a curare i rapporti con gli altri, specialmente verso i più bisognosi, a purificare la lingua dalle parole offensive, dalle volgarità della mondanità, a curare le ferite del cuore con l'olio del perdono e curare il lavoro compiendolo con passione e con attenzione, fino a curarsi dall'invidia, dalla concupiscenza, dall'odio che ci trasformano in persone distruttive. Nell'invitare tutti a trovare sempre il tempo per la propria famiglia e per giocare con i bambini, che vuol dire seminare futuro, Papa Bergoglio ha infine fatto una richiesta. Alcune volte per conservare il lavoro si sparla di qualcuno per difendersi. Io capisco queste situazioni, ma la strada non finisce bene. Alla fine saremo tutti distrutti, fra noi, no? E questo no, non serve. Ma chiedere al Signore la saggezza di saper mordersi la lingua a tempo. Per non dire parole ingiuriosi, che dopo ti lasciano la bocca amara. Grazie. Grazie. Grazie.